E' qui con noi Antonella Marras, Presidente del Comitato Spontaneo Cittadini Borzoli e Feggino. Quindi, come dire, una situazione un po' diversa da quella del ponte, però voi avete tanti altri problemi, oltre a quelli che indotti dal ponte. Se mi vuoi raccontare. Sì, allora, praticamente siamo qui per dimostrare comunque già il fondo in cui siamo come valle, come Valpolcevera. Abbiamo già tantissime criticità, una di queste è il fatto che abbiamo nel nostro territorio la presenza di un deposito di idrocarburi. E questo provoca, sempre provocato per anni, problemi per quel che riguarda le emissioni, soprattutto, che siamo costretti a subire quando c'è la movimentazione, giusto, del petrolio, comunque dei lavorati. Scusa, e il crollo del ponte che problemi ha creato per la vostra comunità? Quindi voi come state, che posizione avete preso rispetto ai lavori da fare, alla tutela della vostra salute? Sì, allora, l'impatto è stato notevole, soprattutto i primi tre mesi, tre mesi e mezzo, perché avevano chiuso praticamente tutte le strade. Ovviamente alcune in modo inspiegabile, direi, tipo Corosoperone per noi era abbastanza inspiegabile che fosse chiusa. Questo ha fatto sì che l'unica via di collegamento tra la Valpolcevera e poi tutto il resto della città fosse via Borzoli, aumentando il traffico in una maniera incredibile. Le cose che abbiamo chiesto inizialmente erano proprio di incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico e soprattutto anche di renderlo gratuito. Almeno in quel periodo in cui era necessario che le persone lasciassero le auto a casa. Scusa, questa vostra richiesta, che risposte ha avuto? La nostra richiesta ha avuto risposta negativa, completamente, anche se in Valpolcevera alcune linee erano state messe gratuitamente. Infatti è una cosa abbastanza inverosimile il fatto che proprio l'unica strada di collegamento non fosse stata presa in considerazione. Il servizio è stato aumentato, il trasporto pubblico? No, non è stato neanche aumentato e tra l'altro avevamo chiesto anche che la linea arrivasse fino alla fermata della metropolitana di Brin in modo da poter aiutare le persone che dovevano muoversi verso il centro ed evitare di muoversi con l'automobile. È stata una situazione veramente pesante a livello proprio anche di qualità della vita ma di inquinamento. Infatti poi è stata anche posizionata, finalmente dopo mesi che la chiedevamo, una centralina mobile. Ha rilevato alcuni sforamenti, non moltissimi, perché comunque è anche posizionata in un posto che secondo noi non è molto recettivo, però purtroppo la nostra via è difficile proprio anche posizionare un mezzo così grande, mobile ovviamente. A questo punto che chiedete all'amministrazione? Continuate a insistere? Noi insisteremo sempre, noi insistiamo perché la qualità della vita e il diritto alla salute venga assolutamente tutelato, sia per la presenza del deposito di idrocarburi, sia come abbiamo fatto anche che venga comunque rispettato il divieto che dopo anni di lotte siamo riusciti ad avere per il passaggio dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate e che non veniva fatto rispettare. Infatti in quei tre mesi avevamo anche manifestato proprio il nostro disappunto in questo e insomma poi alla fine siamo riusciti ad avere un controllo e comunque continueremo la nostra lotta affinché ci sia un controllo, un monitoraggio continuo anche di tutti gli inquinanti a cui siamo sottoposti e che ci sia proprio un'analisi completo dello stato di salute delle persone in questo quartiere. Grazie. 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 Grazie.